Dopo un anno di malattia e sofferenza, testimoniata con amore e speranza, ci ha lasciati per fare ritorno alla Casa del Padre sabato scorso, il 5 maggio, il nostro pastore, il pastore della Diocesi di Manfredonia, Vieste San Giovanni Rotondo, Monsignor Michele Castoro. Stiamo per partecipare anche alla Messa Esequiale, che sarà celebrata dal Segretario di Stato, inviato da Papa Francesco, il Cardinal Pietro Parolin. Con me Francesco Di Palma, stretto collaboratore della Diocesi, è stato anche Presidente dell'Azione Cattolica appena il Vescovo arrivò qui nove anni fa, Francesco Di Palma, con me solitamente a commentare la Messa Grismale. Benvenuto. Grazie. Questo è l'ultimo dono che ci fa Monsignor Castoro, con questa grande convocazione di tutta l'Assemblea, non solo diocesana, ma regionale e anche nazionale. Non l'avremmo voluto commentare questo momento? No, però come lui ci ha insegnato è un momento da vivere a pieno nella preghiera e nella unione con lui. Lo sentiamo presente tra noi. Adesso dietro alle nostre spalle vedete dei ragazzi, sono giovani che hanno partecipato alla veglia di preghiera che si è svolta proprio ieri a Manfredonia, nella cattedrale dove erano esposte appunto le spoglie di Monsignor Castoro. È stato un bel momento anche quello di preghiera, si è sentita la vicinanza dei giovani, ma non solo, perché hanno partecipato anche i non più giovani. Era un momento di festa quello, come avrebbe voluto Monsignor Michele Castoro. Io ho alcuni rappresentanti del coro che animerà questa celebrazione, ma anche alcuni rappresentanti del movimento studenti dell'azione cattolica della Diocesi. E ecco qui, vieni avanti Pasquale, ci darà una bella testimonianza della sua vicinanza e soprattutto della vicinanza di Monsignor Michele Castoro ai tanti ragazzi attivi nella nostra Diocesi. Sì, Monsignor Castoro a noi ha donato tanto. È proprio questo suo dare sempre che è stato un padre per noi. Sta qui il nostro padre che ha sempre donato per noi. E poi Monsignor Castoro ci ha fatto un regalo bellissimo. Ha creduto in ognuno di noi, sin dal primo giorno. Noi abbiamo iniziato un'esperienza che è il Movimento Studenti di Azione Cattolica. Oggi indosso la maglietta di quando il primo giorno abbiamo annunciato al Vescovo la nascita nella nostra Diocesi di questo movimento. Alla fine di questa esperienza che raccontiamo al nostro Arcivescovo lui mi dice finalmente il sogno della mia Diocesi si sta avverando. Io l'ho capito pochi giorni fa, qual era il suo sogno. Rivivendo l'entrata nella nostra Diocesi a Manfredonia lui credeva di avere dei giovani dal cuore grande dove potevano trasmettere la bellezza del Signore nella loro vita quotidiana. In suo incontro privato, questo porto nel cuore di Monsignor Castoro lui mi dice quando gli altri vedanno la vostra vita trasformata da Gesù anche essi si innamoreranno del vostro stile. Questa è l'esperienza più bella che noi abbiamo potuto avere. E nella concezione di essere suoi figli noi abbiamo riscoperto l'amore di Dio. E ora noi portiamo una grande responsabilità addosso. Il nostro pastore ha camminato accanto a noi, non ha camminato né dietro né avanti. D'ora camminerà dentro di noi perché oltre a dilatare il nostro spazio per il Signore lo dilateremo per Lui, lo porteremo dentro di noi per andare nel mondo e testimoniare la bellezza del Signore. Grazie. Queste parole sono veramente sentite, lo abbiamo sentito anche ieri attraverso la testimonianza di tanti altri ragazzi. Avete avuto modo anche di vedere alcune immagini della serata a cui abbiamo partecipato anche noi con Tele Padre Pio. Questo è il frutto dell'Azione Cattolica, un movimento molto seguito anche da Monsignor Castoro. Intanto però Francesco, preparati la risposta. Salutiamo i ragazzi che sono impegnati. Grazie a voi, grazie a tutti. Sono impegnati per la Santa Mesa, per animarla. Grazie e buon cammino insieme a Monsignor Castoro. Grazie. Grazie. Dicevamo Francesco, ex Presidente dell'Azione Cattolica, ma hai continuato a collaborare sia con noi, sia con la Dioce, sia molto vicino anche a Monsignor Castoro. I ragazzi molto vicini a questo pastore che ha portato su di sé l'odore delle pecore. Sì, l'attività di Monsignor Castoro si è distinta subito per una grande forza e vivacità e una voglia di lavorare con i laici. L'Azione Cattolica l'amava profondamente proprio perché attraverso l'Azione Cattolica voleva raggiungere tutti i laici, per cui non è solo l'Azione Cattolica, tutti i movimenti ecclesiali, tutti i laici sono stati al centro della sua attenzione. Quindi la cura che ha avuto per noi di AC è una cura strumentale, tra virgolette, per raggiungere davvero che diventassimo segno del coinvolgimento di tutti i laici. I laici sono stati anche protagonisti dei suoi tanti documenti. In nove anni ne ha scritte di linee pastorali e comunque ha lasciato il segno. Noi poi magari ci ritorniamo su questo. Però vogliamo ripercorrere un po' la sua storia attraverso un contributo realizzato da Francesco Bosco e la sua biografia. Lui è arrivato qui nel 2009, nove anni con noi, ma anche prima ha messo in piedi diverse opere. Vediamo insieme.